Andrea Tornielli, responsabile editoriale dei Media Vaticani e giornalista, autore di molti libri, sicuramente un punto di osservazione della Chiesa particolare, quello che vive ormai da qualche anno in Vaticano e che lo ha portato a scrivere un libro che ci fa avvicinare al Natale, perché si intitola La vita di Gesù, con il commento di Papa Francesco. Il libro Vita di Gesù racconta la vita di Gesù partendo dai Vangeli, ma anche con una parte mia di immaginazione. Ho cercato di ricostruire colori, sapori, stagioni, di datare esattamente gli avvenimenti e anche di dare un nome a tanti personaggi del Vangelo, tante persone che nel Vangelo non hanno nome, a volte anche facendo qualche azzardo di ipotesi sulle loro vite, sulle loro vite precedenti, gli incontri di Gesù. E la mia speranza è quello che sia un libro che possa avvicinare anche chi magari non crede, chi non ha una frequentazione quotidiana o settimanale con il Vangelo, perché comunque è la storia di una persona certamente eccezionale, comunque si creda, che duemila anni fa ha cambiato la nostra storia. Ecco, sicuramente non è un momento facile, è un momento in cui ci sono anche tante tensioni all'interno della Chiesa, c'è stato poi questo grande clamore che ha fatto anche questa rivelazione del Papa, in cui ha detto ho lasciato le mie dimissioni al momento in cui mi sono insediato. Sicuramente un punto di osservazione particolare, un rapporto particolare con un Papa che quasi non ha bisogno però dell'intermediazione, decide lui un po' cosa fare, no? Non c'era assolutamente bisogno, comunica lui, comunica lui direttamente, sceglie lui a chi fare le interviste e che cosa dire. Riguardo alla notizia che ha fatto il Giro del Mondo, circa la lettera delle sue dimissioni preventive, bisogna ricordare che non è affatto una novità, che già Paolo VI nel 1965, dunque meno di due anni dopo essere stato eletto, aveva scritto una lettera, comeppure il Papa Paolo VI parlava di grave impedimento, non soltanto legato a questioni mediche, perché bisogna ricordare che già Pio XII durante la Seconda Guerra Mondiale, siccome c'era presente, viva e possibile la minaccia di essere rapito da parte di Hitler, aveva fatto una cosa simile per evitare che una volta che Hitler avesse rapito il Papa, avesse con sé il Papa, avrebbe avuto soltanto il Cardinale Pacelli, i Cardinali avrebbero potuto eleggere un nuovo Papa. E c'è invece chi ha letto questa cosa? Come forse anche un modo per dire, sono pronto anche forse ad espormi di più, forse in questa faccenda della guerra in Ucraina, forse si avvicina un possibile viaggio del Papa e forse è questo che faceva riferimento? No, non credo che faccia riferimento a questo, però certamente il Papa ha a cuore l'Ucraina tantissimo, è però a cuore di andare in Ucraina, ma vorrebbe accompagnare questo e non disgiungere questo da un viaggio anche in Russia, l'ha detto più volte, da un viaggio anche a Mosca. Certamente purtroppo non dobbiamo arrenderci, credo, all'ineluttabilità della guerra e continuare a credere e sperare, ma soprattutto lavorare con creatività per cercare di arrivare innanzitutto a una tregua e poi a una pace e poi a una pace giusta. Grazie e buon Natale. Grazie e buon Natale a voi.